La nazionale di calcio brasiliana oggi, ovvero 10 gol al passivo in appena due gare, è una squadra distrutta 0-3 anche nella finalina per il terzo e quarto posto contro l'Olanda. Gli arancioni non hanno fatto molto, ma vista la pochezza dell'avversario è bastato. I tifosi olandesi sono contenti del risultato. Quattro anni fa in Sudafrica abbiamo perso la finale, stavolta siamo un gredino sotto, ma sono più contento del secondo posto in Sudafrica. Dall'altra parte l'incubo mondiale per il Brasile finisce nel peggioro dei modi, ma i tifosi, o meglio quel ristretto numero di persone che poteva permettersi il biglietto per lo stadio, la prende sportivamente. Sono triste, sono venuta per sostenere il nostro paese, ma io credo tutto e speravo nella vittoria, dice questa ragazza. Sfortunatamente non è accaduto e applaudo quelli che hanno giocato meglio. E mentre si mormora di José Mourinho alla guida della Seleção dal 2017, i tifosi stasera faranno il tifo per la Germania contro l'odiata argentina. Troppo, veder vincere i cugini dell'Albi Celeste in casa propria. Troppo, veder vincere i cugini dell'Albi Celeste in casa.